200 metri a rana uomini sette nuotatori si sono qualificati per la finale il campione americano Higgins conduce dall'inizio egli nuota stile parfalla ruotando le braccia fuori dell'acqua nella corsia presso di noi il giapponese a muro attiva la sua cadenza e prende la testa vira primo il suo compatriota coi che ha virato secondo ma nella penultima corsia citas germania in calza ecco citas Higgins il defonso fuori che ecco 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 Si confrontano i cronometri. Amuro ha vinto nel tempo di due primi 42 secondi e 5 decimi, nuovo primato olimpico. Siitas, Germania secondo, poiché Giappone è terzo.